Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Giuseppe Conte, presidente del Consiglio. Mi dice il motivo più importante per cui gli italiani si dovrebbero fidare di lei nella gestione di questa gravissima crisi sanitaria e anche economica? Grazie a tutti. Confidavo che questa domanda questa sera non ci fosse. Grazie, grazie presidente del Consiglio, arrivederci.